Crociera ai blocchi di partenza nel porto della Spezia con il primo scalo in città il 29 luglio della Main Schiff, nave ammiraglia della compagnia tedesca Tui Cruises, a cui seguiranno anche navi di altri importanti armatori, tra cui Costa Crociere e MSC. Gli sbarchi croceristici proseguiranno al momento fino al 31 ottobre, con ben 38 scali in programma. Oltre alla Main Schiff arriveranno in città ogni settimana, la MSC Grandiosa, tra le più moderne navi della compagnia, e la Harmony of the Seas, una delle navi da crociera più grandi al mondo, in grado di ospitare oltre 6.500 passeggeri. Ci stiamo preparando alla piena ripresa del settore croceristico, realizzando anche importanti opere di manutenzione straordinarie al molo Garibaldi, ha detto con soddisfazione il presidente di autorità portuale Mario Sommariva, alle cui parole si aggiungono quelle del direttore del Terminal Crociere, Giacomo Erario, che ha ringraziato tutte le autorità e gli operatori del porto.